Salve a tutti da Davide Zhang, in questa video recensione vedremo il Canon EOS 650D, un corpo macchina di livello prosumer, quindi fascia bassa media, questo corpo macchina si trova al listino di circa 450€, corpo solo, mentre è in kit sui 600, questo corpo macchina come principali caratteristiche abbiamo un sensore CMOS da 18 megapixel, formato ridotto, quindi APS-C, con un fattore di moltiplicazione di 1,6, abbiamo un processore Digic 5 che promette una riduzione di rumore fino all'80% rispetto al Digic 4 e il processore Digic 5 promette anche una raffica più veloce. Poi abbiamo una caratteristica di questo corpo macchina, il display orientabile, questo corpo macchina supporta le schede SD, SD, SDHC, SDXC. Questo corpo macchina è fatto interamente in plastica, quindi non abbiamo il magnesium alloy, che sarebbe il corpo in magnesio, ad esempio la 60D che ha il corpo parzialmente in magnesio o acciaio. Questo corpo macchina non ha nessuna guarnizione per la prova d'acqua, ad esempio uno schizzo d'acqua, quindi è sconsigliato usarlo in condizioni meteo piovose o quando c'è umidità, molta umidità. Questo corpo macchina viene fornito in kit con il 1855 IS2, foto in formati RAW e, allora, come potete vedere ora il formato è RAW, formato RAW, 18MP, RAW più JPEG, sempre 18MP, 0.3MP, 2.5, 4.5, 4.5, 8 e 18. Questa corpo macchina, come dicevo, fa i video in 1080p. Allora, il fattore ISO, la sensibilità ISO, nella modalità foto arriva fino a, nativamente, a 12.800, estendibili fino a 25.600, mentre in modalità video, ok, giriamo, in modalità video arriva fino a 6.400 nativi con il boost a 12.800. Qua abbiamo questa rotellina come principali tasti del corpo, abbiamo tasto di scatto, ghiera, ghiera, tasto ISO, tasto ON e video, questa ghiera di selezione modalità a scatto, quindi, qua abbiamo HDR, scatto notturno, contro luce, sport, macro, questo panoramica, ritratto, creativa, senza flash, automatico, programmato, priorità tempo, priorità apertura e manuale. Questo corpo macchina ha il transmitter wifi, quindi è possibile controllare un flash esterno a distanza, TTL, quindi possiamo montare un flash esterno e funziona in poche parole in automatico e comunica con la macchina senza problemi. Come entrate e uscite abbiamo entrata, presa per il scatto remoto e presa per il microfono. Come uscite abbiamo AV, HDMI e connessione a computer. Qua sopra abbiamo questo controllo della diottria, in poche parole la correzione della diottria, se portate occhiali da vista. Qua abbiamo il tasto apertura, quick menu, white balance, autofocus, colore tipo di foto, tipo picture style e raffica. Qua abbiamo galleria e qua abbiamo il cestino. Sotto abbiamo questo posto dove si vita sopra il treppiede, questa vite. Come la batteria viene inclusa, questa della Canon LP8, da 1120 mAh. Fornisce una durata discreta, nelle foto può bastare forse, ma nei video non basta. Infatti vi consiglio di comprare delle batterie aggiuntive anche compatibili, perché queste batterie costano su una sessantina di euro, mentre quelle compatibili libri costeranno 10 euro e funzionano ugualmente. I tempi di ricarica sono ok, non sono né troppo lunghi né troppo corti. Abbiamo il microfono stereo che è già integrato, abbastanza utile, perché alcuni corpi macchina forniscono ancora il microfono mono. Qua abbiamo il tasto flash, tasto per montare e smontare l'obiettivo, e il tasto preview della profondità di campo. Questo corpo macchina scatta delle foto buonissime, soprattutto quando c'è tanta luce, mentre quando abbiamo condizioni di scarsa luce questo corpo fa un po' fatica a fare le foto, soprattutto se non avete obiettivi luminosi. Ad esempio quello che viene fornito in kit 1855, fa fatica a scattare le foto di sera. Come dicevo, l'ISO arriva fino a 12800 nativi in modalità foto e si estende a 25600. A mio parere poco utile, perché praticamente il corpo macchina già fa rumore a 1600 ISO, quindi non è come una full frame che a 10.000 ISO il rumore si vede a stento. Il rumore è già ben evidente a 1600, tra i 1200 siamo già al limite, se scattiamo in JPEG, mentre se scattiamo in RAW non riusciamo proprio a salire oltre i 800 ISO, perché il RAW ovviamente non comprime l'immagine e praticamente il rumore non viene compresso. Infatti con il RAW si può lavorare in post produzione e migliorare qualcosino. Abbiamo, come dicevo, l'autofocus automatico nella modalità video, che a mio parere è un po' poco utile, perché è ancora sperimentale. Non funziona benissimo, a parte che ora ho un obiettivo rumoroso sopra, quindi non con messa a fuoco silenziosa, ad esempio gli obiettivi USM o della Canon o STM. l'obiettivo fa fatica a mettere a fuoco, non è come la 70D che ha il fuoco proprio da videocamera, quindi è ancora sperimentale la messa a fuoco. Abbiamo il controllo del livello d'audio nella modalità video, che possiamo vedere qua. Cosa molto utile a mio parere. Poi abbiamo il filtro vento attenuatore. L'unico neo e anche i corpi in macchina, ad esempio 6D non hanno questa possibilità, è la possibilità di modificare il livello audio durante la registrazione. Ad esempio la 5D Mark III ha questa possibilità, ma si tratta di un corpo che costa 10 volte questo. 8-9 volte questo corpo. Ovviamente comprandolo usato. Questo corpo macchina ha live view che vi ho appena fatto vedere. Classicamente si usa il mirino per andare a mettere a fuoco. In questo corpo macchina abbiamo 9 punti di messa a fuoco, tutti a croce. A mio parere il numero di punti di messa a fuoco non è esagerato, ma possono bastare. Sono abbastanza precisi, soprattutto quando c'è tanta luce, mentre a luce scarsa è quasi impossibile fare foto con l'autofocus. Il mirino è piccolo, è piccolo, è poco luminoso, è un pentaspecchio, non un pentaprisma, quindi non ci si può aspettare granché da un corpo macchina, soprattutto di questa fascia. A mio parere si fa molta fatica a fare le foto nel buio con il mirino ottico. Il live view è praticamente il mirino digitale sul schermo. Anche questo ha la messa a fuoco lenta, più o meno come in video. Infatti di solito io uso questo, se uso il mirino veloce. In termini di ergonomia questo corpo macchina è discreto, non è molto ergonomico. Ora abbiamo un 50 mm che è leggerissimo montato, mentre se montiamo ad esempio un obiettivo più pesante il corpo inizia a diventare pesante verso il fronte, quindi tutto sbilanciato. Questo corpo macchina è fatto in plastica, infatti qua già mostra segni di usura, anche se non avendolo mai fatto sbattere ai suoi segni di usura. Questo corpo macchina lo consiglio sì, se avete un budget di, se volete ad esempio comprarvi la 1100D io vi consiglio di aggiungere 100-200 euro per prendervi la 650D oppure la 500D oppure ancora la 550D che è più vecchia, sono sempre i corpi validi rispetto alla 1100D perché praticamente hanno controllo manuale nella modalità video, cosa che la 1100D non ha e registrano soprattutto video in Full HD. Se avete un budget ad esempio proprio per la 650D o se non oltre vi consiglio di aggiungere anche qua un po' di più per prendervi la 60D che a mio parere è un corpo macchina più resistente con ergonomia migliore. Quindi come conclusione direi che questo corpo macchina è adatto per le persone che non hanno praticamente basi nella fotografia quindi usano la macchina in automatico e direi che usano la macchina in automatico e hanno anche la possibilità di studiare queste modalità manuali. Direi nient'altro, devo dire questo corpo macchina da delle buone soddisfazioni se scattate in piena luce mentre con la luce scarsa inizia a fare fatica e nient'altro. Mi raccomando iscrivetevi su 4Mobiles e relativi social network. Un saluto da Davide. 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 Un saluto da Davide.